La Megabox, intesa tanto come realtà produttiva quanto come realtà sportiva del territorio, ha siglato questa mattina due protocolli di intesa con l'Università di Urbino. Protocolli con due dipartimenti, quello di Scienze Biomolecolari assieme alla Società Sportiva e quello del Dipartimento di Economia e Società Politica assieme all'azienda Megabox. Firme arrivate nella sede fanese dell'Università di Urbino del complesso di San Michele. Sono progetti che hanno un carattere direi propositivo, nel senso che sono protocolli di intesa all'interno del quale si stabiliscono una serie di opportunità, di scambi che arricchiscono il territorio, l'Università e che possono prevedere rapporti di natura di ricerca piuttosto che consulenziali, piuttosto che di arricchimento proprio reciproco. In questo progetto specifico su cui noi chiaramente abbiamo messo una certa attenzione, una certa passione speriamo di vedere crescere le competenze che noi possiamo portare, mettere in campo come area economica e anche l'area scientifica insieme a quelle che Megabox come grande impresa di cui non devo stare adesso a ricordare i meriti e tutti i ruoli porta come dotazione verso l'Università di Urbino. Stiamo investendo tanto nel territorio, il territorio sta apprezzando quello che Megavolley sta facendo per tutto quello che riguarda il progetto giovanile della Pallavolo, ma non solo riguarda la Pallavolo riguarda anche gli giovani studenti sia di economia che di scienze motore che stanno svolgendo i loro studi formativi all'interno della Facoltà dell'Università di Urbino e siamo pronti per ospitare all'interno sia del Megabox quindi per l'aspetto aziendale sia Megavolley per quanto riguarda scienze motorie per aspetti formativi di stage, per qualificare non soltanto il loro aspetto formativo ma tenere all'interno del territorio la qualità umana e professionale. Adesso i passi successivi che vedono la realizzazione del progetto ad assegnarci un po' il passo verso l'inclusione anche dei giovani per noi sono iniziative estremamente formative perché danno la possibilità all'Università di Urbino di avere contatti molto forti e stretti con il territorio e con le imprese importanti del territorio.